Quest'anno, grazie all'evento natalizio organizzato dal ristorante e pizzeria Cottura Media e solo con trani per il sociale, 12 famiglie in difficoltà economica hanno potuto trascorrere una vigilia di Natale in armonia e serenità. Grazie all'impegno della rete civica e dell'attività commerciale è stata offerta una cena completa dall'antipasto al dolce ai meno ambienti che hanno così vissuto in tranquillità la notte di Natale. Grande soddisfazione è stata mostrata da Antonio Loconte, Fabrizio Sotero e Daniele Santoro, referente del progetto Solo con trani per il sociale. Abbiamo voluto dedicare loro un momento di convivialità, di sorriso, di voglia di guardare la vita con occhi diversi e con più speranza. Per questo, grazie a loro e grazie a noi, grazie alla nostra organizzazione, a tutti i nostri aderenti, alla nostra associazione e soprattutto ad un'attività come quella di cottura media, siamo riusciti a realizzare questo progetto in collaborazione con Solo con trani per il sociale che, seppur solo per una sera, tenterà di dare un sorriso e tenterà di far trovare delle ragioni di entusiasmo a delle famiglie che magari non vivono una situazione facile.